Allora, in questo video vediamo un modello 3D scelto da Thingiverse, che si chiama Christmas Elftown Lamp. Sarebbe una lampada fatta con casette di un villaggio degli Elfi di Natale, praticamente. Di questo Lolo Aguirre, che mi sembra giusto nominare perché è l'autore. Un disegno di esattamente quattro anni fa, del 23 novembre, un giorno a caso ovviamente. Considerando che oggi è il 25 novembre, accidenti, l'avessimo fatto due giorni fa, avremmo fatto l'anniversario. Quindi, ora io ho cliccato su Download All Files, lo rifaccio. C'è da aspettare qualche secondo, così i ragazzi che guardano imparano a scaricare i modelli da Thingiverse. Si va nella cartella Download, ok. Crea un file zip. Io questo file zip l'ho già decompresso. Mi sono ritrovato un file STL. Ora, io qui faccio un piccolo passaggio su Blender. Così vi faccio vedere come usare Blender, anche senza saperlo usare, solo per scaricare i file da Thingiverse. Quindi, ora ho scaricato l'STL del disegno. Vado su File, Import. Devo specificare l'estensione, altrimenti non la trova. STL. Devo specificare la cartella. In questo caso ho scelto la cartella Tinkercad Alunni. Questo è il file. Ciudad. Aguierada 2. Non so cosa voglia dire in spagnolo, non parlo lo spagnolo. Clicco in Port STL. Se non lo vedo, attenzione, perché spesso potrebbe essere grandissimo di lato. Guardate a destra. Lo so perché l'ho fatto prima anche. Vedete, quindi non sempre il disegno compare nella parte evidenziata. Quindi, ora io cancello questo che c'era prima. E ho il mio modello 3D. scaricato da Thingiverse. Quello che io vi insegno, ragazzi, è non stampare i disegni fatti dagli altri, ma limitiamoci a studiarli per imparare da persone più brave di noi e prendere spunto. Guardate quante belle costruzioni ci sono qua che possiamo, in questo modo, osservare meglio. Intanto io mi ingrandisco lo schermo, riduco questo. Close Area. E vado in Windows Full Screen. E posso, da questo file, studiare elementi. Anzi, posso anche fare una cosa. Posso provare ad aprirlo su Tinkercad, questo file. Anche se è abbastanza facile che Tinkercad dia errori quando importiamo qualcosa. Mentre Blender è perfetto per importare, ok? Però io posso anche editare singole parti. Avendo voglia potrei fare delle modifiche di qualsiasi tipo. Potrei staccare... Mi avete chiesto di fare un tetto. Se io fossi pigro, e che a me piace farlo da zero, potrei staccare, per esempio, questo bel tetto, che mi piace. Vi faccio vedere come si fa. Vado in modalità superfici. Cancello le superfici che uniscono il tetto alla casa. Ok. In modo tale da isolare il tetto. Ok, vedete? Mi piace molto questa forma arrotondata. Ovviamente il bello sarà rifarlo su Tinkercad da zero. Ah, sono in prospettiva. Levo la prospettiva, metto la vista ortogonale, perché a me viene più facile zoomare con questa. Sto cancellando pian piano tutte le parti che toccano. Poi ovviamente questo disegno lo ricaricherò interno. Però ora quello che mi interessa farvi vedere è... Guarda, io cancello tutto quello che non è selezionato. Vedete? Ho selezionato il tetto. Faccio CTRL-I. Quindi inverto la selezione. E cancello. Così ho pulito un po' la scena, va bene? Perché non vedevo alcune parti. E continuo il mio lavoro di pulizia. Perché devo isolare. È bella questa parte arrotondata, eh? Secondo me. Poi ripeto, magari è il caso di imparare queste cose e a farle da zero. Però ci sono persone brave su internet. Impariamo da loro. Allora, qua è interessante vedere questa unione. Guardate questo raccordo. Carino. Proprio bello pulito come lo ha... Proprio si vede che... Non so che programma abbia usato, non adesso capirlo. Comunque io continuo a pulire. Vedete? Devo essere preciso. Ora, queste cose, senza Blender, sarebbe impossibile farle. E con Blender non ci vuole bravura per farle, no? Vedete? Sono lavori molto manuali. Dovete solo imparare a muovere un po' bene il mouse. Magari... Ah, peccato. Ho cancellato questa cupola. Ma sapete che vi dico, io questa cupola me la conservo. Quale cosa faccio? Mi tengo alla metà della cupola. Ok. Vedete cosa ho fatto? Ora faccio così. Uno. Vediamo un po' se è tutto separato. Ok, guarda, faccio... Clicco qua, una cosa qualunque. Clicco qua. Control-L. Seleziono solo le parti collegate. Io cosa ho fatto poco fa? Ho voluto scollegare i due tetti dal resto della costruzione. Ora faccio Control-I. Inverto. E cancello. E dovrebbe essere pulito. Ora vediamo un pochino. Sì. Qua, per esempio, vediamo dei cosiddetti errori nella topologia. Questo, sicuramente, è un lavoro che l'autore ha fatto. Io non lo voglio lasciare, perché voglio un disegno pulito. Allora, cosa faccio? Mi prendo questi punti e gli dico M al centro. Vedete come si fa? Praticamente elimino tutte le geometrie che non mi piace avere nel mio disegno. Guardate. Ora questo, lo cancello. Ok. Questo, lo cancello. Questo, mi attivo lo snap ai vertici. Queste cose ripassatele, per chi ha già visto roba di Blender. E faccio un bel G. Qua faccio un bel G. Ora io sto facendo molto il P vinco, eh. Però, ora io faccio una A, M, e unisco i vertici sovrapposti. Dopodiché seleziono questi quattro e faccio un F. E ora faccio un F. Non è più pulito rispetto a prima? Che c'era quella specie di buco antipatico. Anche qua. Sono errori tipici dei programmi gratuiti, tipo Tinkercad. Non sono cose belle da vedere queste in un disegno ben fatto. Quindi io questi qua, allora, gli dico M all'ultimo e ho unito dei punti che non mi piacevano. In questo modo posso semplificare la topologia, si chiama, di un disegno. Evitando delle cose, diciamo, che non creano problemi a nessuno. Però, se dovete dare un disegno a qualcuno, lui giudicherà la vostra bravura da queste cose. Ok? Queste sono, diciamo, delle approssimazioni che in un disegno ben fatto non ci devono essere. Ok? Io qui devo fare delle forme. Ora clicco la F. Cioè, io ho dato delle forme pulite. Che poi, ripeto, in nessuna stampa a 3D si vedranno queste cose. Ma se io voglio darvi un lavoro ben fatto, le voglio correggere. Ora, qui abbiamo un tetto. Faccio CTRL L. Shift D. Me lo duplico. una bella rotazione orizzontale di 180 gradi. Ok? Se non ho sbagliato, dovrei poter riuscire a snapparlo in modo tale da fondere i vertici fra di loro. Vedete? Non è proprio... Questo è il disegno originale vuol dire che non era simmetrico, secondo me. Ma... Ora io faccio una A. M. Per distanza. Aumento la distanza minima di fusione dei vertici. In questo modo, quei vertici che sono distanti si uniranno. Prima o poi... Più è grande la distanza. Guardate. Visto? Si è capito? Ora, a occhio non si vede... Non dovrebbe esserci nessuna differenza. Però, ho unito dei vertici che prima erano vicini e non... Ecco qua. Ok? Adesso, tutta questa linea... Io potrei, se avessi voglia, fare una verifica. Così si fa la verifica, no? Questa è la linea di taglio. Vedete? Se io la sposto... Fa ridere, no? Se io la sposto e rimangono dei vertici cioè se ci fossero due vertici vicini ma distinti ne rimarrebbe uno al suo posto, giusto? Perché io qui ho fatto una selezione continua. Quindi, se avessero avuto due vertici che occupavano lo stesso punto non si sarebbe deformata l'intera forma. Ora, siamo sicuri che questo oggetto è chiuso. Potrei, in teoria, fargli un selezion... un alt select con alt ed F per chiuderlo. Guardate un buco. Vedete qua c'era un buco? Me ne sono accorto adesso. Ora, per chiudere i buchi mettiamo che l'immagine sia molto complessa e ci sono tanti buchi. C'è un comando che si chiama fill holes su Blender. Io seleziono tutto, vado nella ricerca, F3, scrivo fill e trovo fill holes chiuso. Perché di default mi chiude tutti i buchi con quattro vertici o meno. Io potrei mettere anche 40. Quindi, se ci fosse, per esempio, un errore incredibile, no? Un buco gigantesco che ovviamente non si può tappare in automatico un buco simile. Va ricostruito in maniera simmetrica. Però, se io volessi, se questo buco complesso fosse piccolissimo e in stampa 3D non mi interessasse, selezionerei tutto, andrei su fill holes, ovviamente su più di quattro vertici il contorno del buco, gli metto 40 e ho tappato tutti i buchi con 40 vertici o meno. Poi, se vado a vedere la forma vera di questo buco, di questo tappo, è questa. E, se la mia forma fosse piccolissima, potrebbe essere un'approssimazione accettabile. Ok? Va bene. Ora, questo modello per me è pronto per essere esportato. Lo salvo. Lo salvo nella cartella Tinker Cadalunni e lo chiamo Tetti Villaggio Natale. In realtà non li ho fatti con Tinker Cad, li ho solo importati con Blender dal disegno di di questo autore di cui non ricordo il nome, l'ho detto prima da Tinguiverse, però potrebbero essere utili. Vedete, questa è la parte che non mi piace, per esempio, guardate questo raccordo. Lo vedete? Questo lo vogliamo correggere? Prendo qua, mi studio queste forme, allora, spingo questo qua, ok, questo, gli dico M all'ultimo e questo lo mandiamo qua. Ora, è più bello, cioè, è una forma più, diciamo, pulita, ecco. Vogliamo continuare a tapparlo, ora, vado qua, vado fino a qua, per esempio, il fatto che questo vertice non l'abbia selezionato non è una cosa bella. Ora, io ho scoperto che c'è una, 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 uno spigolo di tropola, l'ho levato, ok, è giusto, ora, vado qua, qua, gli dico F e ho chiuso questa strisciolina, ok, ora, potrei continuare così, ma non ne ho voglia, faccio quello che vi ho detto prima che non è proprio il massimo della pulizia, faccio un F e poi triangolo per vedere il risultato, accettabile, ho tappato un buco, d'accordo, così su Tinkercad non avete superfici bucate ma solo solidi, vado qua, vado qua e faccio un F ok, anche qua, anche qua e faccio un F alt select tappo questa superficie, alt select tappo questa, qui è un po' più difficile tappare questa parte buca, qua, ok, ogni tanto gliene do un paio, ok, quindi alt select F ho fatto diciamo un tetto stampabile che si può assemblare su modelli no, questa è la versione blender diciamo così presa da Thingiverse ora lo facciamo da zero con un altro video su Tinkercad le parti troppo curve conviene selezionarle a parte altrimenti si creano delle forme molto lontane dalla geometria corretta quindi vado così F ora io seleziono tutto faccio un triangulate per triangolare devo andare sulla selezione per superfici tasto destro e mi compare nel menu triangulate ora a me non piace moltissimo tutto a triangoli mi piace di più a quad cosa sono i quad lo vediamo adesso mesh no face ricordatevi questo video riguardandolo più volte si imparano tutte le cose così in diretta non si ricorda nulla qui abbiamo tristu quad trasformo i triangoli in quadrati che è una cosa molto più pulita per un video guardate che bellino guardate come la topologia è si capisce guarda come la prima guardate come la prima molto più sporca ok dove non l'ho perso torniamo alla fine ok a pace tristu quad molto più bellino da dare a un compagno su cui poi ci potrà lavorare per conto suo ovviamente queste approssimazioni ottenute tappando i buchi danno questi risultati vedete questo è brutto come taglio in stampa 3d però per evitarlo avrei dovuto unire tutti i segmenti uno a uno a strisce chiaro per esempio ora ho intravisto una cosa che non mi piace per niente non riesco a salvare con queste cose guardate questo schifo qua mamma mia queste sono le cose che trovi su thingiverse perché ok è che pulisci solo con blender andiamo in trasparenza andiamo in vertex mode e vediamo una marea di schifezze che non servono e noi cosa facciamo le cancelliamo tutte in modo molto delicato guardate quanti vertici ho cancellato che non servivano assolutamente a niente e adesso mi ricostruisco la mia geometria in modo molto easy facendo un prima me la studio un f qua un f qua e un f qua più bellino no? adesso prima tutto quel pastrocchio di punti ricordatevi che in stampa 3d quegli errori possono creare buchi in interni non sempre il programma di stampa capisce che quello fosse un buco o meno questo camminetto ci interessa? non ci piace? allora io me lo prendo guardate faccio così gz una cosa molto divertente ho fatto l'ho fatto scendere sotto perché onestamente se il cammino lo volete ve lo aggiungete voi questo può essere un incastro per un cammino fatto da un alunno d'accordo? che su tinkercad vi riprenderete per lavorarci sopra ok il nostro i nostri due tetti sono pronti però li dividerò adesso quindi andremmo in seleziono tutto ctrl l quindi ho selezionato sono due oggetti che non si toccano quindi posso selezionare uno o più elementi di uno ctrl l seleziono tutto clicco p che in inglese sta per part separate o part stessa parola e separo la selezione cosa vuol dire? che adesso ho due oggetti uno due quindi ora posso modificare un singolo oggetto o l'altro ma posso anche salvarli singolarmente quindi ora prendo la mia testa di fungo la chiameremo così vado su export stl va bene perché non abbiamo informazioni di colore quindi non serve fare cose più complicate e mettiamo tetto fungo d'accordo lo chiamiamo così tetto fungo e tetto casa tetto fungo e scrivo sm perché se qualcuno vorrà modificarlo gli dà il suo nome e così evolviamo il nostro work in progress qua devo spuntare selection only perché io ho selezionato un elemento e l'altro no con selection only esporto solo quell'elemento tinkercadaluni tetto fungo export le impostazioni restano finché non chiudiamo il nostro file quindi selection only c'è già tetto fungo e ora sarà tetto casa e invito tutti voi a creare le vostre varianti non è finita perché quando esportiamo da un programma all'altro quasi sempre la scala è sballata quindi ora gli devo andare prima di chiudere il mio blender anzi per sicurezza mi salvo il file perché un conto esportare l'estl un conto avere l'originale blender con tutti i livelli le separazioni chiaro cioè ci sono più informazioni sul file punto blend che sull'estl come su tinkercad è diviso per gruppi si possono si può tornare indietro nella gerarchia dei gruppi su tinkercad se invece esporti uno bj o un stl no e un file 3d è difficilmente modificabile quindi è sempre bene ragazzi salvare sul programma la versione nativa file sorgente lo chiameremmo tetti villaggio natale quindi qua ci sono entrambi ok diciamo la versione definitiva ok e lo salviamo andiamo su tinkercad ho questo file nuovo col solito nome abbastanza inutile ttsm01 e vediamo cosa mi dice se faccio in porta stl scusate desktop tinkercad alunni tetto fungo qua ha una sua unità di misura posso provare con la scala sua vediamo non tocco niente vediamo che dice ricordatevi che oh perfetto non ci sono errori mi sembra mettiamo la trasparenza bene sono soddisfatto alla prima nel senso che questo tetto è già pronto per essere modificato io non ho fatto nulla ho solo esportato e selezionato elementi che erano molto bellini davvero vediamo all'altro casa quando ha troppi vertici ti incarca da problemi quindi eh che bellino vedete queste approssimazioni queste approssimazioni che ho fatto per pigrizia su tinkercad non puoi più intervenire qua a meno che non stai lì a sottrarre un lavoraccio ok bene io sono soddisfatto ora questi due questo file magari ve lo ve lo provo a raddrizzare non è detto che ci riusciamo vediamo se l'angolo è si può mettere in squadra oh siamo fortunati lo sapete mi sembra che abbiamo una linea perfettamente parallela ai quadretti perfetto beh così è più facile lavorare in maniera pulita anche qui imparate sempre a mettere i vertici a linea vedete guardate questa cupola che è è una sezione di sfera no ha dei vertici i vertici devono sempre essere paralleli o alla x o alla y cioè così va bene guardate guardate così no voi neanche la vedete la differenza da lì a questa distanza io la vedo però basta cambiare di un grado e chi riceve questo file avrà una cupola non simmetrica fra destra e sinistra adesso se io volessi tagliarla in quattro spicchi potrei fare un lavoro pulito ok cioè e io vi devo dare un lavoro che sia tagliabile cioè qua ogni spicchio ogni poligono è uguale all'interno del suo spicchio se avessi prima lasciato un grado in più giusto avremmo avuto i poligoni vicino al taglio non non simmetrici e non va bene per un disegno che stiamo dando ad altre persone perché lo sa chi l'ha fatto ma non lo sa chi lo scarica per quello io non voglio che scarichiate roba fatta da altri che non conosce ok qui abbiamo i nostri tetti il video è registrato questo è un link adesso lo mando in descrizione del video buon divertimento con i tetti di Natale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti